ciao a tutti ragazzi sono loris 98 e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale oggi benvenuti siamo qua alla rsi come vedete programma di attenti a quei due special guest temister bella bella lì sì niente andremo a fare il pubblico ma fare il pubblico e la trasmissione prima volta di temister attenti a quei due lui carichissimo e poi sarò dall'altra parte lui carichissimo cos'è la lancetta del della freccia la freccentina della macchina bene radio televisione svizzera italiana a manca la iti italiana eccola la bene dai andiamo a mangiarla eh sì adesso andiamo a mangiare qualcosa e ci rivediamo dopo ragazzi dentro nella saletta di attesa forse ve la farò vedere a dopo eccolo qua prima puntata pronti e ragazzi ciao ciao e questa puntata è andata andata un po' maliccio cioè non ci sono state vittorie sconfitte ma vabbè adesso ragazzi faremo qualcosa di speciale questa puntata e mister cosa faremo di speciale puoi dirlo se la mandano in diretta vedrete non so che giornata il 18 settembre no il 19 settembre 19 settembre ragazzi tutti sintonizzati su rsin a 1 perché noi apriremo attento la puntata di attento a dopo procediamo con la seconda puntata ecco lo studio lì ecco lì bene siamo pronti seconda puntata vai eccoci qua ragazzi quindi come vedete ancora la pausa qui della seconda puntata termine della seconda puntata adesso ci sarà l'ultima puntata sempre qui dal dallo studio di attenti a quei due siamo stati protagonisti ragazzi è 19 mister conferma mister conferma 19 settembre ricordiamo la data ragazzi tutti sintonizzati su 19 di settembre adesso qua come vedete la pausa questo meraviglioso studio che possiamo vedere qua fuori perché ormai facciamo le reaction fuori adesso è ci vedremo la terza puntata e poi chiuderemo con le considerazioni finali qui non ha vinto nessuno però vabbè pur sempre meglio siamo stati nei protagonisti una roba incredibile ragazzi vedrete tutto ci vediamo dopo procediamo quindi ragazzi eccoci siamo finiti in tele si è pure spammato sto qua si è spammato il canale della loris 98 l'ha fatto molto bene e niente è stato bello divertente è vero bello mi ha fatto un po' di youtube un po' con miguel poi ci siamo sia nella puntata prima che nella dopo che facciamo un po' di stupidaggini dietro è vero è sentito comunque prossima volta vieni qua col sax ragazzi se arriviamo a 500 iscritti va col sax a suonare speriamo di arrivarci speriamo di arrivarci ci siamo qua solo per sponsorizzare ma anche per invitare gente a suonare quindi ragazzi ti proponi e fai la sigla iniziale ok va bene metteremo sicuramente la foto anche di Luca Mora che abbiamo fatto assieme giustamente al termine di questo magari sa anche una miniatura che credo vediamo detto questo ragazzi dall'ora 98 e da Temister è veramente tutto vedrete anche i video che abbiamo registrato oggi di Turbo Dismount ci saranno prossimamente sul canale detto questo buona serata a tutti dall'ora 98 Temister ciao a tutti e alla prossima bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.